Hey Bentley, credo di vedere delle cose. Devo avere le visioni. Vedi anche tu quelle strane luci blu? Davvero? Ho letto qualcosa al riguardo. I maestri ladri progioni sono in grado di percepire fisicamente le possibilità di furto che si manifestano sotto forma di inspiegabili aure blu. Secondo le ricerche che ho fatto, tutto ciò che devi fare è avvicinarti e tenere premuto il tasto cerchio per eseguire un'azione di infiltrazione da ladro professionista. Tenere premuto il tasto cerchio vicino alle aure blu. Ci sono. Grazie a tutti. 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 Continua così, Sly, qui è dove l'ispettore Carmelita Fox custodisce tutti i suoi file più importanti. Sono penetrato nei computer della polizia e sono riuscito a trovare questa combinazione. prova a digitare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continua così, Sly, qui è qui. Sly, qui è qui. Sly, qui è qui. Devi fare. Continua così, Sly, qui è qui. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. criminale. vedermi i nostri, qui è qui è qui. Non puoi sfuggire. Non puoi sfuggirmi.